Siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Non finisce più la festa dei Guelfi, la squadra di football americano di Firenze che una settimana fa ha vinto l'Italian Bowl, lo scudetto della specialità. Gli atleti, immancabilmente vestiti di viola a bordo di un pullman scoperto, hanno attraversato le strade della centro di Firenze, arrivando al tramonto sul tetto della città, a piazzale Michelangelo. È un onore che ci ha riservato il Comune di Firenze, lo ringrazio tantissimo e sono contentissimo per i ragazzi, per quello che abbiamo fatto. È una cosa che comunque abbiamo iniziato a scrivere la storia. Abbiamo iniziato perché per me non è finita qui, ma voglio andare avanti con questa squadra e fare grandi cose. È un'agenda indescrivibile che ci ripaga di tanti sacrifici fatti negli ultimi anni da parte della società, da parte degli allenatori, da parte dei giocatori. Abbiamo raggiunto un obiettivo che ci avevamo prefissato all'inizio stagione, ci credevamo, siamo partiti da sfavoriti, ma la stagione ci ha temprato. Abbiamo avuto tante difficoltà, tanti infortuni e siamo cresciuti nel corso della stagione. Questi infortuni e difficoltà hanno unito sempre più il gruppo e questo ci ha portato poi al titolo, a vincere perché avevamo più voglia degli altri, nonostante loro fossero più forti, tra virgolette. Grazie. Grazie.